Non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha risposto all'interrogatorio, ma non riteniamo dover riferire merito. Attendiamo gli esiti degli accertamenti della cinematica in particolare. È un dramma, è un dramma per due famiglie. È addolorato, è sconvolto e questo posso dire. È un dramma totale per tutti, per le famiglie, ovviamente per la famiglia del piccolo Manuel, ma anche per la famiglia di Matteo. È un ragazzo di vent'anni la cui vita attualmente è distrutta.